ciao a tutti nuovo video di quelli speciali che quindi troverete nella sezione video speciali video che non posso dire che mi sia stato richiesto nel senso non mi è stato richiesto in maniera specifica ma mi è stato chiesto da diverse persone che ho seguito nel corso del tempo insomma di poterle aiutare a capire quali fossero le loro fra virgolette divinità e quando ho visto che erano diverse persone che mi chiedevano questa cosa ho detto va bene sai che c'è senti prepariamone un video perché se no di questo passo non andiamo più a casa perciò io per adesso farò un video a metà fra lo spiegare e la critica perché faccio già che mettere insieme tutte le cose anche un po' bruttine che ho sentito e questo video parla proprio di come riconoscere le proprie divinità quindi come riconoscere che una divinità vi sta chiamando e vi sta dicendo wey esisto anch'io ciao vorrei far parte della tua vita tesoro io ti sto proteggendo quindi eccomi qua ok allora innanzitutto però dobbiamo fare un passo indietro e parlare di cosa intendo quando io dico le proprie divinità perché ovviamente non intendo dire che una divinità è nostra e nessun altro potrà mai averla no allora in ambito pagano se ne vedono in tutti i colori in ambito pagano sono tante le combinazioni ok allora innanzitutto c'è chi ha una divinità sola nel senso che c'è chi è protetto e che segue i consigli e che si affida totalmente ad una sola divinità chi si affida a due chi si affida a tre chi si affida a ventiquattro chi si affida a un intero pante le cose sono queste allora innanzitutto cosa sono le proprie divinità sono le divinità protettrici le divinità protettrici sono le divinità possono essere divinità protettrici divinità matrone e divinità patrone allora le divinità matrona e patrona sono quelle che fanno un po' da madre e da padre a un individuo quindi sono quelle che danno un po' la vita ma fra virgolette ok è un discorso molto complesso molto 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 complesso fanno sia da protettori che da guide che da madre e padre divini ecco è molto detto in maniera molto sintetica ci bisognerebbe parlarne per 24 ore di cosa è una divinità matrona patrona quindi non so se non stiamo a parlare di questo poi ci sono le divinità protettrici le divinità protettrici sono divinità che appunto ci proteggono con cui possiamo lavorare bla 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 però non ci fanno da madre e da padre semplicemente ci proteggono hanno con noi relazioni diverse possiamo contattarli una volta ogni tanto possiamo contattarli tutti i giorni però è un tipo di rapporto diverso adesso è difficile da spiegare ve l'ho detto sto stringendo perché non posso parlare per 24 ore capito allora in generale però ognuno di noi può avere una divinità patrona una divinità matrona una divinità patrona e una matrona più divinità protettrici più divinità protettrici e una matrona più divinità protettrici e un patrono più divinità protettrici una matrona e un patrona yeah allora è un casino perché gente perché è difficile però in ambito pagano non tutti abbiamo la stessa cosa nel senso che anche gli stessi tradizionalisti che dicono oh io sono un tradizionalista che ne so celtico e io sono tradizionalista celtico quindi lavoro con le divinità celtiche 90 per cento delle volte vi garantisco che non lavorano con tutte le divinità celtiche non so neanche se riconoscono tutte le divinità celtiche 90 per cento delle volte lavorano con due tre quattro cinque e basta è chiuso lì finito perché è veramente difficile entrare in sintonia con tutte le divinità di un'intera tradizione o addirittura con tutte le divinità di tutti i pantheon è veramente impossibile perché non tutti non siamo sotto la protezione di tutti ma l'avevano capito anche all'epoca pensate appunto non lo so pensate al popolo greco ok c'erano le amazzoni che si dedicavano ad ares c'erano gli ateniesi che si dedicavano ad atena c'erano le baccanti che si dedicavano a dioniso c'erano i sacerdoti di zeus che si dedicavano a zeus c'erano i sacerdoti di zeus ed era che si dedicavano a loro due c'erano i sacerdoti di apollo e artemile che si dedicavano a loro due c'erano solo quelle di artemile c'erano solo quelli di apollo insomma ognuno alla fine sente una chiamata da punti diversi ok non è per forza detto che anche se una persona è tradizionalista segua tutto il pantheon è difficilissima questa cosa di solito si segue una, due, tre, quattro, cinque, dieci divinità ma non tante di più anche venti per dire però non tutto il pantheon ok è difficile lavorare con tutto il pantheon perché bisogna avere una qual certa connessione e bisogna essere chiamati da questo però appunto facendola breve ci sono quelle persone che hanno semplicemente una divinità matrona a quella divinità o una divinità patrona a quella divinità si rifanno ma non sono classificabili come monoteisti nel senso che non sono i monoteisti tipo i cristiani sono classificabili come semplicemente devoti ad una divinità che può essere matrona o patrona ce ne sono tanti di casi ok non è niente di strano la divinità matrona non è per forza una divinità specifica tipo Atena, Demetra, Cerere, Iside, Freia, Rian, Non e Company può anche essere semplicemente la Dea Lunare la Triplice Dea, la Dea Mestruata, la Dea della Terra la Dea Madre Terra, la Dea Madre o cose di questo genere lo stesso per la divinità patrona non è detto che sia una divinità come Osiride, Zeus, Odino, Cernunnos, Pan e Company può anche essere il dio cornuto, il dio solare il dio della terra, il dio della fertilità, il dio della fecondità e Company non è per forza detto che sia una divinità specifica poi ci sono quelle persone che hanno una divinità matrona e una patrona quindi sono protetti da un padre e una madre nel vero senso della parola divini ovviamente sempre che possono essere la Triplice Dea, il dio cornuto la Dea Lunare, il dio solare oppure non lo so coppie di divinità per davvero tipo Frighe e Odino o Iside e Osiride o che cavo ne so Anubis e Bastet ok per dire oppure cose così oppure due divinità provenienti da Panteo diversi perché teniamo sempre appunto a mente anche l'eclettismo perché noi eclettici esistiamo gente quindi non lo so nel mio caso quali sono le mie divinità no, non è vero nel mio caso è dopo o più avanti però per esempio non lo so Freya e Zeus ok oppure che cavolo ne so Saturno e Rianon ok possono essere la stessa tradizione oppure no poi c'è chi ha solo divinità protettrici quindi solo divinità con cui non ha un rapporto speciale quanto quello della Patrona e Matrona ma ha un rapporto come divinità appunto protettrici che possono essere da tre in su divinità provenienti o dallo stesso Panteo diversi e poi infine ci sono c'è chi come me ha divinità protettrici una divinità matrona e una Patrona nel mio caso sono qua ok nel mio caso la mia divinità matrona è Iside la mia divinità patrona è laggiù ed è Kernunnos le mie divinità protettrici sono tutte le altre con cui ho delle relazioni diverse come arriviamo al punto focale come si riconoscono le proprie divinità quindi quando è che una divinità ci sta dicendo weyla guarda che sono qui eh non è semplice io vi dirò che ho deciso di partire per questo video per esclusione perché vi dirò quello che mi hanno detto tutti ma se io vedo questo ma se io vedo quell'altro ma se io sento questo ma se io sento quell'altro e vi smentirò accuratamente tutte queste cose che io ritengo delle cazzate mi spiego adesso meglio come allora la prima che sento tantissimo è ma io ho visto quel determinato animale quindi significa che quella divinità mi sta chiamando ma io ho sognato questo animale quindi significa che quella divinità mi sta chiamando allora gli animali messaggeri vanno molto di moda sono molto fighi ma gente nessuno di noi è così tanto importante da scomodare un animale messaggero a venirci a dire ehi là allora innanzitutto bisogna fare una differenza enorme fra gli animali messaggeri e gli animali veri perché gente ci sono due cose come il sole e la luna come il giorno e la notte sono due cose diverse allora gli animali veri sono gli animali in carne e ossa che vediamo tutti i giorni che può essere l'uccellino può essere la lucertra può essere il cane il gatto, il canarino, il pappagallo può essere il pesce può essere la mosca può essere la zanzara può essere il ragno può essere anche il pinguino sono animali veri carne e ossa che stanno per i cavoli loro sono esseri senzienti per i cavoli loro fanno quel cavolo che gli pare se gli va di volarvi sulla testa vi volano sulla testa se vi va di tagliarvi la strada vi tagliano la strada sono animali che si stanno facendo i cazzi loro che vivono la loro vita e non gliene sbatta altamente il cavolo di voi ok? questi sono gli animali veri e poi ci sono gli animali messaggeri gli animali messaggeri non sono animali hanno solo le sembianze degli animali ma non sono animali ok? capite la differenza? gli animali messaggeri sono per esempio nelle faule il bianco cervo il bianco cinghiale e qui e là e su e giù sono animali sono spiriti che prendono le sembianze di animali e che arrivano a fare da messaggero allora iniziando dal fatto che nessuno di noi è uno degli eroi antichi che quindi si ritrova l'animale messaggero sul proprio cammino perché nessuno di noi si chiama Galvano Artù o Morgana o che cacchio sia che è nessuno di noi o Cuculein o Romolo e Remo insomma quindi è già difficile per quello avere gli animali messaggeri però l'animale messaggero si riconosce principalmente per delle caratteristiche particolari che principalmente sono fisiche e comportamentali prima caratteristica la dimensione solitamente l'animale messaggero è grosso il doppio se non addirittura il triplo dell'animale normale il famoso bianco cervo delle varie leggende medievali e tutto è un cervo estremamente grosso con corna estremamente enormi che qualsiasi re avrebbe bramato per poterlo uccidere e piccare la sua testa su un muro come dire e guarda che l'ho cacciato io questo cervo allora il bianco cervo era un bestione il bianco cinghiale uguale grosso il doppio se non il triplo di un cinghiale normale qualsiasi animale messaggero è grosso il doppio almeno il doppio dell'animale normale poi il colore solitamente o sono candidi come la neve o sono neri come la notte o sono rossi come il fuoco ma deve essere una colorazione che non è tipica per niente di quella specie a meno che non si tratti di tipo di cani e di gatti che ormai sono multicolor però notoriamente non deve essere così per esempio appunto il cervo albino ok il bianco cervo il bianco cinghiale il cinghiale norma non è bianco è manco il cervo però l'animale messaggero oltre ad essere estremamente imponente è pure bianco ok oppure nero come la notte e gli occhi iniettanti di sangue ok oppure il cane nero gigante grosso che vi attraversa la strada con il famoso black dog inglese che vi accompagna da dietro poi svanisce che ha gli occhi fiammeggianti a volte ha pure un terzo occhio e così ok quello è un altro messaggero non è un cane normale e finì ci arriviamo gli animali messaggeri si distinguono anche per delle caratteristiche comportamentali non scappano non fuggono ma vogliono che li seguiate o vogliono farvi vedere qualcosa e difficilmente chiunque di nuovo vede un cane o un gatto e lo spaventa non è che quel cane sta lì così e aspetta che lo spaventiate ancora di più no di solito o batte in ritirata o v'attacca in casi sono due ok e lo stesso un gatto lo stesso un cervo lo stesso un cinghiale qualsiasi animale terreno o scappa o vi attacca a sua volta chiuso mentre invece un animale messaggero si fa inseguire vi porta da qualche parte poi misteriosamente scompare e vi fa vedere quella cosa però il succo di tutto questo è che l'animale messaggero è uno spirito inviato da una divinità per potervi dire una cosa ora quanti di noi hanno avuto un animale messaggero davanti al naso nessuno e se c'è qualcuno che sta guardando questo video che c'era avuto un animale messaggero sarà una persona su un miliardo perché perché scomodarsi con tutti i metodi del mondo perché scomodarsi a mandare un altro spirito che deve assumere la forma di un animale che deve farsi pure trovare in circostanze normali cioè allora una volta ci può stare perché cacciavano nei boschi quindi si avventuravano nei boschi nelle foreste andavano per miglia e miglia in cerca di una preda da cacciare ci può stare che nelle leggende ci fosse il bianco cervo ma oggi non è che io mentre vado al lavoro mi spunta davanti un bianco cinghiale in mezzo alla strada spunta lì davanti e io scendo dalla macchina per andarlo ad inseguire nel bosco l'animale questa storia del ho visto quell'animale quindi questo vuol dire no allora c'è una differenza tra l'animale messaggero l'animale totem o di podere e l'animale in carne e ossa non discuto che certe volte chi sta nel secondo regno o comunque chi sta negli altri mondi usi degli animali reali per dare dei messaggi ma non funziona come pensate voi non è che mandano non lo so non è che Artemide manda il cervo a dirmi me lo manda me lo piazza in mezzo alla strada così che io possa seguirlo e capire com'è la storia non è così che funziona quando una divinità vuole farvi arrivare un messaggio per conto di un animale in realtà non agisce sull'animale non solo almeno agisce su di voi nel senso che attira la vostra attenzione su un animale ok per esempio siamo circondati da ragni tutti i giorni ma io ultimamente sto vedendo un botto di ragni tutto intorno a me significa che c'è qualcuno che ha mandato dei ragni intorno a me a dirmi qualcosa no significa semplicemente che qualcuno ha fatto in modo che la mia attenzione si focalizzasse sui ragni ok perché quando giro la testa e casualmente un ragno è lì piccolino non tanto grande da farmi spare un salto così sulla sedia ma è lì piccolino che passeggia sulla mia scrivania ok la mia attenzione è stata tirata da quel ragno se mi giro e ne vedo un altro che cammina così la mia attenzione è stata catturata da quel ragno ma non è che il ragno si è posizionato lì ed aspetta che gira la testa e poi quello là suo ha detto che devo andare ok ok ha girato la testa allora inizio a camminare no no più che altro agiscono su di voi che focalizzate la vostra attenzione su un animale ma non c'entra niente l'animale di per sé l'animale è un essere senziente per i cavoli suoi che si fa i cavoli suoi non gliene sbatte il cacchio della vostra vita ok Jerry per favore basta non voglio più sentirla perché perché veramente fa fa solo ridere e basta per i sogni ne parliamo dopo poi anzi no ne parliamo direttamente adesso cosa dico poi c'è quella cosa di ho sognato la tal cosa quindi significa che quella divinità mi vuol dire questo ho sognato quell'altra cosa quindi significa che quella divinità mi vuol dire questa uh ho sognato anche quell'altra cosa quindi quella divinità mi vuol dire che sta facendo questo allora anche qui l'ambito come se i sogni fossero l'unico modo come se il sogno di contatto e comunicazione fosse l'unico tipo di sogno su questa terra vabbè a parte il fatto che se mi dite una cosa così è palese che non ne capite una mazza di sogni ma veramente meno di zero comunque allora i sogni si dividono in principalmente facendo una cosa molto macroscopica ma per farvi capire ci sono i sogni riallaborativi ci sono i sogni premonitori ci sono i sogni profetici ci sono i sogni di messaggio grosso modo queste sono le quattro cose quelli riallaborativi sono normali quelli di premonitori sono abbastanza frequenti quelli profetici quelli di comunicazione di messaggi sono estremamente difficili e riservati a pochi ok poi molti mi dicono ho sognato il tal animale ho sognato la tal voce ho sognato la tal cosa non significa niente di per se altri ancora e questo è molto peggio mi dicono ah ho sognato il tal animale che mi diceva che era la divinità e quindi è così e qui vorrei fare un enorme appunto allora innanzitutto il mondo onirico è il mondo di congiunzione con gli altri mondi quindi perché una divinità dovrebbe mostrarsi non nella sua forma ok allora un conto se mi dite si è mostrata Eccad tramite un cane nero ok ci può stare oppure si è mostrata Persephone tramite un pipistello mi piace già di più oppure mi si è mostrata Diana tramite una cerva bianca dalle corne d'oro ok ci siamo ma non potete dirmi si è mostrato Odino tramite un orso polare ti dico e chi cacchio ti dice che fosse Odino cioè ok poi qualcuno peggio ancora mi dice ho sognato che il mio amico mi diceva che dovevo dedicarmi ad Eccate e io rispondo ma perché Eccate avrebbe dovuto mandare un terzo quando sei nel regno di comunicazione con gli altri mondi e non poteva palesarsi lei perché doveva fartelo dire da un altro e qui entriamo in un altro discorso perché non era Eccate che ve lo stava mandando a dire fate attenzione quando non sognate direttamente le vostre divinità perché a meno che non siano le divinità sono mutaforma e cista possono manifestarsi in una pianta in una pietra in un animale sacro però perché manifestarsi attraverso terzi allora e qui è un discorso complicato qui entriamo su un campo minato io sogno di comunicazione dove ho incontrato delle divinità dove ho incontrato gli spie ne ho fatti a frotte quindi vi posso garantire che se si vogliono mostrare si mostrano non vi preoccupate che si mostrano dovete fare attenzione a delle cose per poter essere sicuri che effettivamente sia la divinità o si mostra sotto forma di un animale sacro una pianta sacra e allora ci può stare oppure si mostra direttamente con le sue sembianze ma soprattutto voi potete guardarla in toto potete sentirla potete guardarla in faccia o in muso non è uguale potete guardarla da capo a piedi potete guardarla in ogni sua parte potete toccarla potete odorarla potete parlarle allora siete sicuri che è la divinità se già sognate una divinità trasformata in un animale o in una pianta che già magari non è manco sacro quella divinità quindi già lì dovrebbe farvi nire fuori un dubbio poi non riuscite a guardarla negli occhi non riuscite a guardare una parte del suo corpo non riuscite a guardare qualcosa di questa divinità oppure peggio ancora si manifesta attraverso terzi quindi l'amico che ve lo dice oppure voi stessi che ve lo dite a voi stessi oppure qualcun altro che ve lo dice state tranquilli che non è la divinità che si è mostrata assolutamente no è una specie di larva astrale che sta tentando di venire da voi non fidatevi perché se iniziate ad adorare quella divinità che dice quella cosa nel sogno chiunque se sia allora non state adorando la divinità state adorando una larva che si mostra con le sembianze di ok è molto diverso e voi volete attaccarvi una larva addosso ma anche no quindi fidatevi dei sogni come messaggi solo quando fanno qualcosa che effettivamente li identifica come tali e questo in realtà non è riferito solo alle divinità è riferito anche ai totem alle guide agli spiriti a qualsiasi altra cosa però fidatevi appunto quando li potete vedere bene in faccia li potete vedere in ogni parte del loro corpo li sentite li toccate quando magari vi abbracciano o vi toccano le spalle o vi mostrano qualcosa e ve lo ricordate soprattutto vi dovete ricordare puntigliosamente e dico puntigliosamente il sogno una volta che siete svegliati vi dovete ricordare anche il minimo dettaglio deve essere una cosa che vi è stampata nella mente e lì resta allora potete dire che sono sogni comunicatori perché se no scusate che senso ha mandarvi dei sogni comunicatori se poi la vostra mente non si ricorda una mazza di quello che ho sognato e non serve una mazza quindi anche in quel caso non sono divinità perciò in realtà fate poco affidamento sui sogni anche perché i sogni il 90% delle volte sono rielaborazioni quindi se voi siete fissati che cavolo devo avere Odino come divinità e poi guarda caso vi si palesa una figura simile Odino vi dice io sono la tua divinità e guarda un po' il caso è solo una rielaborazione del vostro inconscio non è che davvero Odino vento a dirvelo siete voi che avete talmente tanto questo desiderio che il vostro inconscio ve l'ha portato nei sogni chiuso finito ciao quindi smettite anche la parte dei sogni quindi mollatela di dirmi appunto questa cosa e poi la peggiore però forse è la parte dell'istinto e dell'intuito io sento che il mio intuito mi dice che questa è la mia divinità oppure il mio istinto mi dice che quella è la mia divinità ecco peggio ancora come fate a dare retta al vostro istinto se neanche lo conoscete allora noi viviamo in un'epoca in cui l'istinto e l'intuito sono estremamente dormienti perché vengono sedati da quando nasciamo fino a se ci insegnano usare la ragione usare la logica e l'istinto e l'intuito se ne vanno in culo perché diventano dormienti bisogna saperlo risvegliare e non è facile saperli risvegliare quindi semplicemente quello che voi dite il mio istinto il mio intuito mi dice il mio istinto mi dice in realtà è una confusione della voglia propria che voi vorreste tanto che dicesse così e allora credete che dica così ma fidatevi non è così fate queste tre premesse enormi perché sono 25 facciamo 26 minuti che registro partiamo invece di come effettivamente riconoscere le proprie divinità allora le vostre divinità si riconoscono principalmente per due due almeno elementi numero uno sono presenti dall'inizio della vostra vita fin da quando siete piccoli si palesano si palesano con tante forme si palesano con tante sì però una volta che le riscoprite ci pensate su dite cacchio è vero la cosa si può manifestare in tanti modi non è per forza detto che si manifesti in un modo specifico per esempio può manifestarsi perché voi avete sentito un'adorazione per quel mondo o per quella per quel luogo per esempio io avevo un'adorazione per l'antico egitto ma ero fuori di testa per l'antico egitto perché è stata la prima civiltà che ho studiato quindi ero wow ero fuori il mio dio preferito era lui quanto l'ho adorato lo so solo io gente quanto ho amato Anubis cioè tutte le volte che lo vedevo c'era anche aspettate in quel cartone di Mosè il principe d'egitto mi pare comunque ci sono dei riferimenti alle unità egizia e quando c'era lui io ero fuori di testa nel senso che io lo adoravo tantissimo lo consideravo una specie di emblema sacro dell'antico Egitto cioè non c'è Egitto senza Anubis ok è stata la prima divinità che io mi ricordi la prima divinità a cui mi sono affezionata tantissimo cioè non c'è Anubis non c'è Egitto senza Anubis ok quando sono andata al museo egizio ho visto qualche raffigurazione sua e ero tipo fuori di testa fino a che non mi sono comprata la statueta perché è una passione viscerale per lui da una vita poi è arrivata anche quella di lei lei Iside che mi ha sempre affascinata con le sue ali tutto sempre sta figo poi avevo una predilezione molto forte per Lilith che quanto l'ho amata lo so solo io ce l'avevo anche per il diavolo nella sua forma caprina e l'ho capito solo dopo che era Pan che mi stava dicendo yuhu ehi ciao ci sono anch'io e poi c'è stata tutta una tre cose un rapporto particolare con Nettuno sia versione pianeta Nettuno sia con il mare poi ho capito che era lui per quello che riguarda Kernuno sono a connessione particolare anche lì con il diavolo ma questa volta con le corne c'è tutto una spiegazione dietro insomma con Ecate anche insomma fino a quando sono piccola ci sono anche le mie guide i miei totem fino a quando sono piccola ci sono me ne sono resa conto solo dopo però non ci sono c'erano quindi sono presenti sempre sono presenti per una vostra passione sono presenti perché voi sentite un amore viscerale per quella figura per esempio Lilith come ho detto un amore viscerale avevo per lei chiunque diceva che era un demone e mi incazzavo come una velva e non sapevo perché e non sapevo perché mi incazzavo così tanto eppure io l'adoravo mi piaceva moltissimo la figura del diavolo in forma caprina e non capivo perché io pensavo di essere pazza ma non capivo poi ho capito tutte queste cose qua ma può anche essere non lo so che vi viene sempre in mente non lo so un'affezione particolare per qualcosa per esempio Nettuno ha iniziato ad essere presente da quando ero piccolo perché io spasimavo per il pianeta Nettuno c'è qualcuno che mi spiega questa cosa non lo so è anche il pianeta parentesi che influisce di più su di me rispetto a Giove però avevo una pozione viscerale per Nettuno adoravo Nettuno mi inglese pianeta Nettuno oh mio dio insieme al pianeta della luna sì al pianeta della luna certo insieme al satellite della luna tutto questo casino poi è arrivato insomma tutte queste cose qua può darsi che vi piaccia che abbiate un legame particolare in qualunque modo sia perché vi piaccia la divinità stessa oppure perché c'è un tramite con cui arrivare alla divinità stessa insomma tutti questi casini e sono presenti però fin da quando siete piccoli ok lo stesso come ho detto vale per gli spiriti per i totem per le guide e tutto il resto e poi la seconda caratteristica è i sogni ricorrenti non pensate però sogni ricorrenti in senso sogno la stessa identica cosa ogni notte non è quello il senso sogni ricorrenti sognate diverse volte tante cosucce che hanno a che fare proprio con loro ok o con le guide o con i totem perché lo stesso vale anche per loro io mi ricordo di aver sognato tante volte delle cose legate a loro che non sto a dire qua pubblicamente perché gente sono anche cose che riguardano me e basta però ho sognato tante volte i miei totem per esempio per farvi un altro esempio li ho sognati un botto da piccolo quando me ne sono resa conto quando ho realizzato che erano miei totem ho fatto un passo indietro e dico cacchio però c'era già da una vita e lo stesso vale per le divinità le ho sognate diverse volte sotto altri aspetti perché non si mostravano ancora completamente poi quando ho capito tutto hanno iniziato a mostrarsi completamente in tanti modi diversi hanno iniziato anche a intervenire nelle meditazioni quando non c'entravano un cacchio ma veramente non c'entravano un cacchio per esempio una volta stavo facendo una meditazione sulla sulla gazzaladra che è uno di i miei totem è arrivato un ubis qualcuno mi sa dire perché cioè io so dire perché perché so perché è arrivato perché poi me l'ha detto però di per sé non c'entrava una mazza io ero impegnata a fare la meditazione sulla gazzaladra per i cavoli miei è arrivato lui ah ok va bene chiuso ok però si mostrano in maniera ricorrente nei sogni e poi arrivano a mostrarsi in maniera ricorrente in realtà in tutta la vostra vita e se fate caso ci sono le piccole cose che per esempio una cosa che a me ha fatto sorridere forse avevo già detto boh mi ricordo per esempio una cosa che mi ha fatto sorridere è che mi è stato diversi anni fa mi è stato regalato un pigiama con su un con su tre bottoni ah non ce l'ho qua ve lo faccio pure vedere la maglia del pigiama è questa ok ci sono le cose ci sono tre bottoni niente di nuovo niente di speciale benissimo subito dopo che ho avuto il sentore che una delle mie divinità fosse artemide ho notato il primo bottone che non si vede un cacchio ma è inciso un arco e una freccia ok e qui arriviamo alla fine del discorso ovvero come le vostre divinità vi mandano anche dei messaggi vi fanno attirare attirano la vostra attenzione su determinate cose ok attirano la vostra attenzione su un animale su una pianta su un avvenimento ok attirano la vostra attenzione su un oggetto su qualcosa che in qualche modo li rappresenta su qualcosa che vi mette in contatto ok non è che lo stesso discorso che facevamo per gli animali non è che l'animale è governato dalla divinità la divinità gli ha detto ascolta quando gira la testa tu devi camminare così e l'animale aspetta ok ha girato la testa allora vado no però la vostra attenzione viene catturata da quell'animale è lì che c'è il segno della divinità ma non è l'animale che è governato è la vostra attenzione che viene catturata da quell'animale che passa lo stesso vale per una pianta lo stesso vale per un oggetto lo stesso vale per un simbolo come quello dell'arco della freccia lo stesso vale per una figura avevo detto la figura di Anupis che è minseca io lo adoravo oppure un simbolo o qualsiasi altra cosa loro agiscono altrimenti quando la vostra attenzione viene attirata su qualcosa in particolare allora sì quando per esempio io ultimamente sto avendo dei dubbi su una divinità perché tante volte mi sta ultimamente attirando l'attenzione un qualcosa legato a questa divinità che non so se non so se effettivamente mi vuole dire qualcosa o sono io che sono partita per la tangente ecco un'altra cosa mettete sempre in dubbio comunque sempre e comunque quello che vi succede perché se una cosa attira la vostra attenzione una sola volta può essere perché quella cosa è molto bella può essere perché quella cosa è particolare se ve la attira più volte allora c'è qualcosa dietro ma fate comunque sempre delle verifiche vi dico io ho una divinità maschile ultimamente che mi sta che si è affacciata un po' in realtà è un periodo che non lo fa più però per un periodo si è affacciata diverse volte alla mia vita e io sto cominciando a dovere sento ora che questa divinità voglia dire qualcosina ma non ne sono ancora del tutto sicura quindi prima di farlo prenderò insomma dei provvedimenti però mettete anche sempre in dubbio finché mettete in dubbio finché mettete la prova se effettivamente loro si vogliono far mostrare loro supereranno la prova nel senso che potete fare anche non so la prova non so accendete una candela in un punto dove non c'è aria dove non ci sono spifferi perché sennò tanto vale invocate la divinità e dite sei tu che ti presenti a me se la fiamma si muove verso destra questo è un trucchetto che ho insegnato a qualcuno di voi se la fiamma si muove verso destra è un sì se la fiamma si muove in altre direzioni è un no ok questo è un trucchetto veloce per essere sicuri e niente penso di aver detto tutto se non mi sono fatta capire perché su un certo punto sono partita per la tangente ditemelo e tenterò di spiegarmi di spiegarmi meglio ma questo video sta durando veramente tantissimo quindi io la finirei qua niente spero di essermi fatta capire spero di aver di avervi fatto capire la differenza fra animali messaggeri animali reali fra sogni messaggeri e tutti gli altri tipi di sogni soprattutto i quelli rielaborativi fra intuito istinto e la vostra voglia personale e di avervi fatto capire quali segni usano le divinità o gli spiriti o i totemi o le guide per farvi per farvi capire ok che vi stanno chiamando e vi stanno cercando spero di avervi dato una mano spero di avervi aiutato in qualche modo ripeto se non mi sono fatta spiegare mandatemi un messaggio privato alla pagina di facebook oppure su instagram e vi spiego meglio se voi avete dei dubbi e volete condividere con me come mi è già successo ma ho questa dignità che sembra stalkerarmi se ti va vieni cioè ne parliamo eccetera eccetera ecco anche se vi stalkerano per esempio quelli sono i ricorrenti che intendo ok per esempio sognate tante volte scenari diversi sogni diversi ma non lo so c'è sempre un cane nero con tre occhi che vi fissa da qualche parte ok quello è un elemento ricorrente dei vostri sogni e bisogna farci caso ok oppure direttamente la divinità per esempio c'è stato un periodo di circa sei mesi dove Anubis non la pentava più di stalkerarmi nei sogni finché non abbiamo capito dove voleva arrivare però sono passati sei mesi prima che capissi dove voleva arrivare cosa voleva dirmi ok e e niente come ho detto anche all'inizio non tutti hanno 44 divinità potete anche averne solo una o due o tre o quattro o cinque o dieci o venti o anche venticinque o cinquanta non è importante l'importante è che ignoriate la vostra voglia di e e ascoltiate ok dovete smettere di parlare e ascoltare e allora capirete ok e niente detto questo come ho detto spero di avervi dato una mano spero di avervi aiutato se ci sono dei problemi ok appunto scrivetemi io vi lascio un uccione e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie.